A me piace un po' tutto lo sport in realtà, in realtà è la professione del mio attuale fidanzato, quindi rispetto la professione e mi incanta lo sport. Sono molto felice con Fernando, è sicuramente una persona meravigliosa ed è stato molto semplice innamorata di lui. Attualmente sono talmente impegnata con i miei progetti che non è una previsione ora attuale, si vedrà. Sono molto molto felice con Fernando e sicuramente nel mio futuro mi vedo con dei figli, bisogna solamente capire qual è il momento più adatto. Amo molto la Spagna, quindi in realtà perché no, chi vivrà vedrà, si dice in Italia.